Il progetto DERP, gruppo di acquisto parrocchiale, è un progetto che nasce all'interno di co-cooperative Parma attraverso la sua cooperativa di sistema Omnia Service, società cooperativa. L'iniziativa aperta è sostanzialmente sulla azionizzazione dei costi energetici all'interno del mondo parrocchiale parmese con cui ci stiamo confrontando ormai quotidianamente. In un momento congiunturale così difficile come questo dal punto di vista energetico è sicuramente una risposta molto interessante e valida per trovare delle soluzioni. Oltre alla parte prettamente di trading con cui lavoriamo e collaboriamo attraverso Power MG, società cooperativa, l'espressione di co-cooperative a livello nazionale, siamo in grado anche di mettere a disposizione attività legate alla parte efficientemente energetico, antioacistico e tecnologico. È un progetto che sta dando i suoi tutti e che sempre di più viene sollecitato da parte delle parlofondità e riteniamo di essere soddisfatti e di andare avanti in questa posizione.